Costa fatica a remare. I Gesuiti devono essere rematori esperti e valerosi. Remate dunque, remate. Siate forti, anche col vento contrario. Remiamo a servizio della Chiesa, remiamo insieme. Ma mentre remiamo, tutti remiamo, anche il Papa rema nella barca di Pietro, dobbiamo pregare tanto. Signore, salvaci. Signore, salva il tuo popolo. Il Signore, anche se siamo uomini di poca fede e peccatori, ci salverà. Speriamo nel Signore, speriamo sempre nel Signore. Il Papa ha ricordato l'atteggiamento di padre Lorenzo Ricci, l'ultimo generale al tempo dello scioglimento, che insieme ai suoi confratelli visse quel momento in uno spirito di carità, obbedienza, pazienza, semplicità evangelica e amicizia con Dio. La tribolazione, ha detto il Papa, se vissuta la luce della misericordia, ci purifica come il fuoco. Ieri come oggi, la compagnia affronta il dramma dei profughi, dei rifugiati, nel rispetto della sua identità. Il Gesuita, ha concluso il Papa, è un uomo che adora Dio, serve i suoi fratelli e compagno di Gesù, agli stessi sentimenti di Gesù.